Le indiscrezioni nel Palazzo della Politica soffiavano da tempo. Già nella seduta del ultimo Consiglio Comunale, prima delle ferie, la sua essenza era stata notata dai banchi della Giunta. Alessandro Banchetti, il consigliere plurivotato, con il maggior numero di deleghe nel governo della città, sta per lasciare proprio la Giunta, per approdare alla presidenza di una partecipata di primo piano. Estra Energia. Stavani il Corriere di Arezzo ha amplificato la notizia, al punto che ormai il caso è scoppiato ufficialmente alla ribalta. Che Banchetti da tempo fosse in fibrillazione lo si era capito. Aspirava ad essere il numero due della Giunta Fanfani, il vice sindaco, tanto per essere chiari. Ma il sindaco da una parte e le varie correnti di estrazione di Essina del PD dall'altra hanno ostacolato questo progetto. Ed ecco la soluzione ponderata che rispolverà il vecchio manuale Cencelli. Banchetti non sappiamo quando si dimetterà, con buona pace, dei propositi di una mobilità alternativa e parcheggi scambiatori. Ma se ne andrà a rappresentare il comune di Arezzo in un centro decisionale molto importante. Nella stanza accanto troverà Paolo Brandi, che dopo aver lasciato Castiglione Fiorentino, è stato messo a capo del colosso dell'energia toscana. La politica è anche questa, ma non tutti riescono a capirla, soprattutto in tempi di crisi.